Il convegno dei diritti delle piante che si è tenuto Piagea, Pistoia, è stato concepito con questo format, cioè interdisciplinare, che non è una vaga formula per dire che c'erano giuristi, antropologhe, antropologi storici e così via, ma è una pratica della riflessione che intanto ti costringe ad un linguaggio condiviso, comprensibile, perché quando tu parli in un convegno strettamente disciplinare tendi a usare molti tecnicismi, mentre un convegno interdisciplinare è immediatamente, secondo me, aperto ad una partecipazione più ampia, perché il giurista deve parlare in un modo che l'antropologo conosca e così via la storica rispetto ad un altro collega, quindi è proprio un format che abbiamo scelto per una ragione, perché parlare di ambiente significa parlare di complessità, di ecosistemi, di connessioni, quindi a partire dal dialogo interdisciplinare bisogna tessere delle relazioni e non chiudersi in specialismo. Il tema dei diritti delle piante significa innanzitutto che noi dobbiamo riacquisire una consapevolezza dell'importanza delle nostre relazioni col mondo vegetale, questa consapevolezza che si traduce in un cambiamento di pratiche, in un ripensamento dell'agricoltura, in un ripensamento dei nostri stili di consumo, quindi ha degli effetti anche molto pratici, tutto ciò può avvenire attraverso diverse strade, una di queste è ripensare i diritti dei vegetali, ma credo che uno dei risultati di questo incontro che abbiamo fatto anche oggi è che tutto questo deve essere fatto con molta attenzione, perché altrimenti c'è il rischio di usare delle formule semplicemente retoriche come dare personalità giuridica a un bosco, il che è molto bello, ma questo si deve tradurre poi in un effettivo cambiamento del nostro rapporto con il mondo vegetale, quindi per noi parlare di diritti vuol dire più in generale pensare di che tipo di ambientalismo abbiamo bisogno oggi. Di fronte a scenari di questo tipo non si può affrontare il quesito del nostro rapporto con la natura in maniera semplicistica, ma soltanto congiungendo e alleando le conoscenze di varie discipline, che non sono soltanto le discipline, chiamiamole così, tecniche, dure, appunto come la biologia, che sono assolutamente fondamentali perché ci svelano la profondità della complessità, appunto in questo caso del mondo vegetale, che per storia culturale noi abbiamo spesso invece sottovalutato e considerato un dominio umano esclusivo come una risorsa illimitata da controllare e in qualche modo tenere sotto l'occhio del profitto, perdendo di vista invece non solo il fatto che ci dia da vivere il mondo vegetale, cioè ci consente la vita su questo pianeta, ma io lo vedo anche come un esempio di come funzioni la vita. Ecco, questo ce lo può dire effettivamente chi studia e chi è uno scienziato di queste materie.